Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo previsto per sabato 11 maggio. Arriva una nuova piovosa perturbazione atlantica la quale incomincerà a portare piogge soprattutto sul nord Italia. Ma andiamo con ordine. Al mattino, come potete vedere, delle debole nevicate sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio invece sono previste piogge sul nord Italia, tranne la Liguria, la Romagna, le coste venete. Temporale sul Piemonte, la Lombardia e il Triveneto, debole nevicate su tutto l'arco alpino. Nella sera rovesce temporale su tutte le regioni di nord-est, su Levante e Ligure, sulle regioni centrali, tranne le Marche, Abruzzo e Molise. Le temperature resteranno ancora supergiù invariate, ossia fresco ancora sulla regione adriatica. Invece la regione di nord-ovest, quelle tirreniche, temperature quasi nella meglia, le isole maggiore ancora sotto l'influenza dell'anticiclone nord-africano con temperature sopra 25 gradi, ma sotto a 30. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.